più del green pass e l'effetto no da da convincere genitori e ragazzi a vaccinarsi e medgere con chiarezza durante l'open day promosso dall'asl di salerno per gli over 12 presso il centro vaccinale di materno dove si è registrata grande adesione questa mattina genitori e figli davanti alla struttura situata nel rione collinare di salerno hanno con il sorriso atteso il proprio turno certi che la vaccinazione garantirà loro un ritorno a scuola in presenza e in sicurezza l'open day ha messo a disposizione 500 dosi di pfizer il convento più comune tra i minori che si sottopongono alla vaccinazione è proprio l'avvio delle elezioni in presenza mentre nessuno fa riferimento all'obbligo del green pass o pensa alle prossime vacanze allora appena fatto il vaccino sei contenta ti vedo sorridere sì sì ci sentiamo più sicure adesso si parte per le vacanze o si pensa già al ritorno a scuola in presenza è il ritorno a scuola al momento quindi sì insieme vi siete fatte forza e coraggio le vostre compagnie i vostri compagni l'hanno già fatto per quanto io sappia no serve questo vaccino signora per le vacanze ma anche per il ritorno a scuola in sicurezza per il ritorno a scuola perché dopo due anni di didattica a distanza serve la presenza sei contenta di fare il vaccino sì i tuoi compagni l'hanno fatto già sì sì certo così vi sentite più tranquilli molto più tranquilli davvero molto più tranquilli serve fare questo vaccino insomma quanti anni hai tu 16 signora una tranquillità per tutta la famiglia sì in realtà diciamo che era doveroso farlo anche per la speranza insomma di ritornare a un minimo di normalità ce lo auguriamo portato mia figlia ha pensato insomma si è convinta a farvi fare il vaccino ha superato perplessità guardi io l'ho fatto e quindi preferisco anche mia figlia che lo faccia quanti anni ha sua figlia 19 deciso di far fare il vaccino a suo figlio sì 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 per le vacanze perché è previsto dall'obbligo oppure perché purtroppo è previsto dall'obbligo e lo dobbiamo fare una scelta che quanti anni ha suo figlio 15 perché aspettato aveva dei dubbi o atteso l'open day no ho scelto l'open day adesso quindi ok grazie